Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol Leone, Venticello, niente nuvole, cosa chiedere di più. E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Via la gara! Prova la conclusione! Interessante azione sulla fascia destra. Orsolini e passa! Palla filtrante per Palasio. Soriano. Prova ad andare! Prova la conclusione! E c'è il gol del Bologna! E il Bologna segna la prima rete! Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si allunga e trova la palla. Soriano. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Si libera la grande. Effetto il cross. Colpisce! Soriano. La mette sulla sinistra. Sansone. Grande movimento nello spazio. Circa il cross in mezzo. Prova a tirare! Il pallone è dentro! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Rubata palla agli avversari. Sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Difesa. Orsolini. Se ne va. Ecco il tiro. E hanno segnato ancora. Gli avversari possono solo prendergli il numero di tag a questo punto. Doppietta per lui. Grande impatto sulla gara. Non perdi un colpo. Baillet. Soriano. Qui c'è il chiaro tiro. E c'è la rete! C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento. Personalità. Forza. Condizione fisica e mentale. Stanno dominando. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Di provarci. Riceve il passaggio. Orsolini. E trova il compagno. Colpisce il pallone. Infizza il portiere. Ne segna l'un altro e adesso piove su bagnato. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta. Ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Un'azione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Colpisce il tiro. E insaccano. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Palo e gol. Non c'era molto che il portiere potesse fare su questo tiro. Il vento vale come un gol. Finisce così. Non c'è più tempo. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. Invece... Invece... Grazie a tutti.